Buongiorno a tutti, benvenuti all'iniziativa di stamattina dedicata a un quartiere, alle immigrazioni nel quartiere di Pigneto. Prima di presentare l'iniziativa e la mattinata, l'iniziativa che vede Biblioteche di Roma, Roma Multietnica e CNR Ismed insieme, lascio immediatamente la parola a Daniela Ukmar, la responsabile della biblioteca Goffredo Mameli del Pigneto, che è il luogo in cui idealmente oggi siamo riuniti per poter parlare di questo territorio e della sua storia. Buongiorno a tutti, grazie Stefano. Sono davvero molto felice di essere qui oggi a portare i saluti della Biblioteca Mameli a tutti i relatori e alle persone che sono collegate in questo momento. Come già accennava Stefano, l'incontro di oggi nasce da una collaborazione tra l'unità di ricerca Ismed del CNR e Biblioteche di Roma, collaborazione che ha già avuto al suo attivo l'importante convegno che si è svolto nel novembre scorso e al quale avrebbero dovuto fare seguito una serie di incontri in presenza su base territoriale in sette biblioteche di Roma, tra le quali la Mameli. Purtroppo oggi siamo invece costretti a questa versione a distanza in attesa di recuperare le nostre attività in presenza. Mi preme solamente evidenziare quanto sia importante per noi biblioteche di quartiere occuparci di un tema così complesso come quello delle migrazioni, proprio perché per una biblioteca civica il rapporto con il territorio direi che ha proprio come prima aspirazione quella di poter contribuire a saper leggere la realtà contemporanea e soprattutto appunto di poter contribuire alla costruzione di saperi sociali che sappiano leggere la realtà contemporanea e del resto il fenomeno appunto dei fenomeni migratori sono non solo da sempre una parte integrante della storia di questa città ma lo sono ancora di più per quanto riguarda appunto l'area territoriale sulla quale opera la biblioteca Mameli che ha il seguito e i suoi dintorni. Basti pensare ad esempio a Torquini Attara che è diventato un po' il luogo simbolo di un quartiere, di una città anzi che cambia pelle in continuazione proprio in virtù delle migrazioni interne del passato e di quelle internazionali dell'oggi. Aggiungo solo che questa riflessione sul tema di oggi mi pare veramente particolarmente significativa proprio in questo momento nel quale precipitati come siamo direi nei confini strettissimi delle nostre case stiamo scoprendo forse una direi una condizione forse meno rassicurante di quella che mai avremmo immaginato proprio perché si si rende conto che senza una comunità attorno, senza solidarietà e coesione sociale si può addirittura divenire stranieri e strani persino a noi stessi. Lascio la parola ai relatori che ringrazio moltissimo e auguro una buona visione a tutte le persone che sono collegate. Grazie a tutti, buona visione dell'incontro. Benissimo, grazie Daniela. Io ricordo appunto che essendo un incontro immateriale, a distanza, che abbiamo deciso di trasmettere sui social, è possibile anche fare delle domande, è possibile da parte del pubblico porre interloquire con i relatori e quindi partecipare a un dibattito ponendo domande nei commenti che poi provvederemo noi a girare ai relatori. Appunto questa di oggi è una scommessa, l'abbiamo presentato come il primo appuntamento territoriale di un percorso dedicato ai 150 anni di immigrazione a Roma Capitale, percorso che come ricordava Daniela si è aperto il 6 novembre con un convegno che affrontava le caratteristiche dei fenomeni migratori fino alla seconda guerra mondiale e poi appunto adesso partiamo con gli incontri dedicati ai singoli quartieri e appunto un appuntamento territoriale seppur deterritorializzato ma la scommessa è questa, è questa di poterci sentire insieme in un quartiere nella sua storia pur rimanendo a distanza per quel bisogno che ricordava Daniela di utilizzare questo tempo diciamo di distanza forzata per non perdere i legami con il nostro territorio e la nostra storia. Iniziamo questo incontro con Carmelo Severino, Carmelo Severino è un architetto, è un urbanista, è stato dirigente presso il comune di Roma ed è l'autore di un libro importante proprio sul pigneto, sulla sua storia che si intitola Roma mosaico urbano, il pigneto fuori porta maggiore pubblicato da Gangemi nel 2005, libro che è stato anche presentato nella stessa biblioteca Mameli nel passato e di recente Severino ha anche pubblicato un'altra opera dedicata a un'altra zona, all'Esquilino che si intitola Roma Esquilino 1870-1911, uscito proprio l'anno scorso, quindi pochi mesi prima poi il periodo pandemico che ha impedito di poterne discutere dal vivo. Ecco, quindi cominciamo con Severino con uno sguardo storico, urbanistico sul quartiere. Quindi le cedo la parola e benvenuto e grazie per questo intervento. Buongiorno, scusate. Buongiorno. Cominciamo con la prima slide così incodiamo il discorso. Roma nel 1870, al momento della breccia di Portapia, ha una popolazione di poco più di 220.000 abitanti, racchiusa dentro le mura oreliane e dispersa in un territorio di circa 1.400 ettari. La parte edificata però occupa appena 400 ettari, pari a poco più di un quarto della sua superficie complessiva ed è localizzata soprattutto nell'Anza del Tevere, l'impianto medievale che si è progressivamente allargata verso Porta del Popolo, Piazza di Spagna, il Quirinale, l'Esquilino, la Suburra, il versanto orientale del Campidoglio. Soltanto i rioni Ponte, Parione e Regola, localizzati nell'Anza del Tevere, sono fittamente abitati con una densità superiore ai 1.000 abitanti ettari. Il rione Sant'Angelo è edificato per tre quarti ed è caratterizzato dalla presenza del Ghetto. Sulla riva destra del Tevere si trova tra Tevere, tra il fiume e via della Lungare. L'Esquilino, che si estende sui colli orientali tra le grandi basiliche della cristianità Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Giovanni di Laterano, non ha nuclei residenziali, ma è costituito da un continuum di ville aristocratiche proprietà fondiari appartenenti alle famiglie e patizie più importanti. Passiamo all'altra? Avanti. Il territorio comunale di Roma complessivamente si estende per una superficie molto ampia di oltre 20.000 ettari e una fascia larga da 4 a 5 km fuori dalle mura, infatti, circonda la città e costituisce il suburbio per poco meno di 7.000 ettari. Al di là del suburbio inizia l'agro romano, sterminato, che si caratterizza per essere una serie di bassi piani ondulati che si susseguono a perdita d'occhio per decine e decine di chilometri organizzati in tenute agricole che appartengono agli arti predati e nobili aristocratici. Avanti. Fuori porta maggiore si estende il suburbio prevestino, tra via prevestino a nord, via casilina a est e a sud e il fosso della maranella a est. Al di là del fosso si estende all'agro romano con la tenuta dell'acqua bulicante che appartiene al principe del drago. Passiamo all'altra? Diventata Roma la capitale d'Italia, molte attività produttive si localizzano nel suo territorio e nonostante che il piano regolatore del 1973 le preveda a testaccio, tale insediamento si verifica fuori da ogni programmazione industriale in quelle località che meglio rispondono ai diversi fattori di localizzazione in base alle attività da impiantare orientate o meno sulla manodopera, sulle materie prime e sull'energia sul mercato. Il territorio fuori porta maggiore è uno di tali luoghi, attraversato dalla ferrovia per Napoli e dagli acquedotti che portano in città abbondanti riserve d'acqua e si caratterizza sin da primi anni, post unitari, per essere scelto come luogo di impianto di importanti stabilimenti operanti nel campo dei servizi cittadini. Soprattutto la presenza della linea ferroviaria, infatti, costituisce per le attività produttive che vi si insediano una straordinaria risorsa localizzativa perché consente quel supporto infrastrutturale necessario per l'approvvigionamento delle materie prime e per gli scambi commerciali tra Roma e il suo interlanto. La prima di insediarsi è l'industria alimentare di macinazione dei ciali di Ducco e Valle tra gli anni 71-73 realizza un mulino a grano alimentato a vapore proprio agli inizi della via Casilina nell'area prospiciente Porta Maggiore, ristrutturandosi poi nel 1883 grazie al Banco di Roma che apporta la sua capacità di investimenti finanziari e diventando poi magazzino generale pastificio Pantanella, infatti è conosciuta come la Pantanella. Negli anni tra 1886 e 1889, sui terreni tra il vicolo del Pigneto e la linea ferroviaria si insieda anche, con le scuderie e le rimesse per i tram, il nuovo stabilimento della società romana Trampier Omnibus, che poi diventerà Atac, costruita dal Banco di Roma nel dicembre 1884. Tra il 1885, i primi anni del nuovo secolo, la maggior parte dei lotti lungo la via Casilina che si vedono bene nell'immagine, tra Porta Maggiore e Ponte Casilino, vengono occupati da stabilimenti, piccole fabbriche, botteghe artigiane, magazzine e depositi di ogni tipo che i commercianti, attirati dal vantaggio dell'esenzione d'aziaria, tengono fuori porta per immagazzinare le colpiste di cui hanno bisogno i negozi di città. Anche la via Prenestina viene interessata dalla localizzazione di attività produttive. Nel 1903 è a figlio Tabanelli, lo si vede nell'immagine, titolare dell'industria meccanica che costituisce carrozze e carri merci per i ferroviari, con sede in via Flaminia che localizza il suo stabilimento spostandosi agli emizi di via Prenestina. A tratto dalla presenza dello stabilimento della società romana, nonché interessato a previsto potenziamento del nodo ferroviario di San Lorenzo. Sempre sulla Prenestina, nel maggio del 1907, è la volta di Carlo Gabellini, un industriale di origine umbra che decide di trasferire nei terreni fuori porta maggiore lo stabilimento a vapore che ha l'Escuidino, il più importante del settore dopo l'impresa di Enini. Con una forza di lavoro non numerosa, ma altamente specializzata. Avanti, facciamo. Ecco, tra il 1910 e il 1911, anche i fratelli Gondran, che sono a Roma già dalle 10 anni, si delequalizzano e portano fuori porta maggiore le loro scuderie, per usufruire anche delle agevolazioni fiscali. Avanti. Nel 1904 sono interessata, sempre nell'area fuori porta maggiore, all'insediamento di attività produttive anche i lotti al di là di Ponte Cacilino, tra via Cacilina e Vicola e Pigneto. Il primo a insediati si è il titolare di due farmacie, le rioni centrali, che realizza un laboratorio chimico-farmaceutico, seguita alcuni anni dopo da Cesare Cerono, che nell'orto accanto, lungo la nuova via Cacilina, vi stabilisce la sede dell'Istituto Nazionale Medico-Farmalogico Cerono, quello che appunto vedete nell'immagine, che è il primo nuovo e importante stabilimento chimico-farmaceutico della capitale. Adesso dovremmo tornare indietro di due slide, ecco su queste immagini, vogliamo continuare a dire in che maniera si servimenta questa composizione industriale sul territorio. Agli inizi del Novecento, quindi a oltre 30 anni dagli attivamenti di Porta Pia, in una città che ha radicalmente modificato la sua condizione economica e sociale, anche la situazione dell'area fuori Porta Maggiore, come si vede nell'immagine, comincia ad acquistare una sua specifica pisionomia, caratterizzandosi per la presenza di un consistente nucleo industriale e una popolazione operaria addetta alle diverse tipologie di industrie manufatturiere e di servizi pubblici. Così, accanto al nucleo compatto dei ferrovieri occupati presso lo scalo merci di Porta Maggiore e di San Lorenzo, ci sono i terrotrambieri della società romana, i lavoratori del settore alimentare della Pantanella e del Molino Centrale, i lavoratori metallomeccanici delle officine di Trabbanelli, gli edili della Carlo Gabbellini, i trasportatori di Cavallari della Casilina, i netturbini del deposito dell'invento urbana Casilino e il chimico farmaceutico della Serono. Poi ritorniamo, tre slide più avanti alla figura 15, questa era l'immagine delle lavoratrici della Serono che faceva parte del discorso precedente. Abbiamo visto quindi la situazione molto industrializzata della zona fuori Porta Maggiore, concentrata soprattutto fuori Porta Maggiore e comunque il resto del territorio, soprattutto nei punti più distanti dalla porta, si presenta ancora rurale, non ancora coinvolto nel processo di paesaggio urbano. Le diverse aziende che vi si trovano, infatti, continuano nella loro tradizionale attività agricola. Nell'immagine vedete l'azienda di Luigi Tavoletti di 23 ettari lungo la Palestina che produce principalmente foraggio nei diversi tipi di richieste del mercato. Il territorio fuori Porta Maggiore, portando lavoro a 8 miliardi di addetti, non ha sviluppato però zone residenziali per i lavoratori. I proprietari fondiari non hanno infatti ancora voluto lottizzare i loro terreni a scopi appetitivi. La città è troppo lontana, infatti, e la presenza degli impianti ferroviari e dei depositi rappresenta comunque un ostacolo per investimenti privati di una certa rilevanza. Tocca quindi al vicino quartiere di San Lorenzo il compito di soddisfare il mercato delle abitazioni per i centri popolari, anche se in condizioni abitative non comparabili in alcun modo ai quartieri portieri. Il piano regolatore che vedete nell'immagine, formato dall'Aggiunta a Natan del 1909, prevede al di là di Porta Maggiore, è molto piccolo, ma lo potete vedere sulla destra, due zone residenziali a differente densità abitativa. Una prima zona di Villini tra via Predestina e Vicolo del Pigneto e una seconda zona di edilizia intensiva a fabbricati che avrebbe dovuto rappresentare la nuova periferia operaia lungo la direttrice orientale verso i castelli. La risposta del mercato però sarà diversa, con la conseguenza di un'edilizia residenziale e non molto parcializzata e poco qualificata, realizzata dai privati che acquistano via via i lotti fondiari che il frazionamento delle diverse vigne poste fuori il porta metta a loro disposizione per costruire, spesso in autocostruzione, la loro casa o comunque alloggi destinata alla fascia povera del mercato immobiliare. Avanti. Nel dicembre 1907 sono i fratelli Bellardi per primi a vendere la loro vigna a lottizzare. La loro vigna è posta proprio dall'area dove personalmente noi ci troviamo, cioè alla biblioteca del Pigneto, all'inizio di via del Pigneto, in località che allora si chiamano campanella. Gli acquerenti dei lotti Bellardi appartengono a un centro popolare di artigiani, commercianti, qualche pensionato, alcuni impiegati, dotati tutti di un modesto capitale che consente loro di realizzare la casa a costi contenuti. Sono quasi sempre piccoli interventi edificatori volti a realizzare abitazioni molto semplici, di un piano 2, qualche volta con la stalla o la rimessa, al piano terra e l'abitazione a primo piano. Altre volte con bottega al piano terra e residenza al piano superiore. Il piano del 1909, sul suolo e sul versante orientale, come abbiamo visto nell'immagine precedente, giungi fino alla barriera della ferrovia più bruttina, che rappresenta quindi il limite più estremo della città interessata dallo strumento urbanistico. Però, poiché non vi sono impedimenti legali a non farlo, alcuni proprietari dei terreni posti fuori piano, nonostante tutto decidono di intraprendere l'autonoma iniziativa di lottizzazione. Secondo il regolamento edilizio del dicembre del 1911, all'articolo 3.5, è consentita la costruzione di nuovi quartieri fuori piano perché si provveda alle urbanizzazioni primarie, strade, foglie, istituzione dell'acqua, il comune sarà tenuta alla manutenzione, ma soltanto quando i nuovi quartieri verranno incorporati alla città. E così, tra gli altri, Leopoldo Perotti, nel 1910, decide di lottizzare la sua vigna posta a poco meno di 2 km da Porta Maggiore, lungo la via Prenestina, che appunto è la prima delle vigne poste fuori porta, che vengono lottizzate fuori piano al regolatore. L'area del Perotti ha una buona accessibilità garantita dalla via Prenestina, è pianeggiante e consente un frazionamento di lotti regolari, organizzato su quattro strade paralleli tra loro. Anche gli acquerenti dei lotti perotti appartengono a un certo popolare operaio e piccolo borghese, tra lo più artigiani, un pittore edile, un carpentiere, un calzolaio e commercianti. Gli sono anche un carrettiere della nettezza urbana, un ostolano, un macellaro, un padroncino di vettura e un vicebrigadiere dalle guardie di finanza, oltre ai fratti pensionati ad alcuni impiegati. A questi dati lo staranno tutti dagli atti di compravendita dei lotti. I prezzi dei terreni sono più bassi rispetto a quelli praticati dai fratelli di Balazzi, che oscillano tra i due e sessanta e cinquanta lire al metro quadro. Via via che le case vengono realizzate, il quartiere di Forteporta Maggiore, come si chiama in quegli anni, comincia a essere popolato, fino ad arrivare nel 1915 a 15.000 persone. L'analisi del registro della parrocchia di Sant'Elena, relativa ai matrimoni e ai battesi dei defunti, disponibile a partire dalla seconda metà del 1914, consentono di conoscere la composizione sociale di questa eterogenea popolazione, fatta per la maggior parte di gente venuta da fuori che hanno trovato a Roma occasione di lavoro. I primi abitanti del Pigneto per un quinto provengono da altre zone di Roma, ma per la maggior parte sono originari dei paesi della provincia, sono i piccoli centri addensati nell'area timbrutina e predestina, i Colli Albani, la Ciociaria, le Valle dell'Ire e del Sacco, Cività Vecchia, la Maremma Romana del Viterbese, i Monti Ariatini, la Sabina e la Valle della Nive. Anche se non manca qualcuno per la misura decisamente minore, ti viene dalla Massica o da altre regioni dell'Italia centrale, qualcuno addirittura dall'Italia settenzionale, dalla Lombardia e dal Piemonte e qualcun altro dalla Puglia e dalla Calabria. Da un confronto comparato comunque con i dati più generali di Roma, vediamo che questi dati non si discostrano oltre da quelli generali della città, anche se al Pigneto è maggiore l'incidenza di chi proviene dal settore sud orientale dell'area romana. Ad inizio degli anni venti, superato un difficile dopoguerra, il permanere della crisi degli allonti e la carenza di aree edificabili a buon mercato, pinge la maggior parte dei proprietari delle altre tenute poste al di là del Vallo Ferroviario all'Ottizzare anch'esso. È sempre un certo piccolo borghese, gli impiegati, i commercianti e i artigiani a comprare, non mancano però i ferroviari nei terrupini, data la vicinanza del deposito comunale di via Casidino. Gli atti di compravendita analizzati documentano come, provenendo per la maggior parte da province dell'Italia centrale e altre zone del Lazio, tra gli acquirenti di questi lotti adesso sono pochi quelli di prima immigrazione, abitando quasi tutti già in altre zone di Roma. Molti provengono da San Lorenzo, dall'Esquilino, qualcuno viene da un po' più lontano, da Viale Ventino, da Porta Furba, altri sono già domiciliati addirittura in zona, in via Campobasso, dalle parti dell'Acqua Abricante, nella vicina Maranella e qualcun altro in via Fanfulla della Lodo in via del Pigneto. A semplificare questa particolare mobilità urbana, che evidenzia il passaggio da una condizione di affitto ad una di proprietà, valga l'esempio della vigna Codenair che vedete nell'immagine, lottizzata nel settembre del 1921 dal generale in pensione Alfonso De Gennaro. Questa lottizzazione viene fatta sul lato destro di via del Pigneto, delle proprietà appunto del generale, intorno al vialetto d'ingresso dell'attuale via Zaludo, con tutti i lotti venduti nel giro di appena tre giorni. Per oltre la metà gli acquirenti sono dipendenti della nettezza urbana, gli altri sono più ferrovieri, anche se vi sono un sandiero, un carottiero, un manovale e altri misteri. Comunque, l'importante è che tutti quanti abitano già a Roma e la maggior parte già abita a Pigneto. Nella lottizzazione da Randi, in Pia Campopassi, in via Bellino, qualcuno viene da Pietralata, altri sono di San Lorenzo. Comunque la cosa strana, la stragrande maggioranza è originaria della provincia di Frosiglione e vengono da paesi di Palvaterra. Siamo negli anni 22-23, insedamente al Prenestino della Viscosa, una importante fabbrica di Cerro Rosa, porta una volta in pronto al Banna nella struttura sociale del quartiere, perché con la grande fabbrica arrivano anche i servizi con gli ambulatori, l'asilo e altre strutture sociali. La Viscosa porta inoltre anche il fatto nuovo della presenza capillare di lavoratrici nel tessuto produttivo del quartiere, ancora più di quanto era avvenuto nella Serona, che pure, come abbiamo visto, da tempo utilizza maestanze femminili in maniera preponderante. Per la formazione del personale qualificato, la direzione della Viscosa ha fatto venire nelle altre sedi del gruppo 200 operai venete per essere impiegate nelle parti speciali, grazie alla loro esperienza per le lavorazioni più delicate. Nel corso degli anni saranno più di mille le donne che trovano lavoro nella fabbrica di Via Prenestina, rappresentando quindi il 40% del totale delle maestranze e sono proprio loro le donne della Viscosa e le operai tessili che alimentano nel quartiere, insieme ai ferrotrambieri e ferravieri, un vivace focolare di resistenza alla politica di restaurazione imposta nelle fabbriche dalle radicine fascista che da via qualche anno si imporrà nel paese. e andiamo avanti. Questa è un'immagine del 1924, da questo piano topografico vediamo bene come a seguito delle numerose e varie rotizzazioni si è venuta a formare sul territorio del Pigneto una situazione tutta particolare, non più rurale ma ne più urbana, a pelle di leopardo, costituito da spezzoni di rotizzazioni, ognuna col suo pezzo di strada avuta dal contesto, tratti di viabilità, strade realizzate a pezzi, interrabbattute, senza continuità tra di loro che conducono i lotti gerbificati per vendersi per il resto nel voto della campagna circostante, nel più completo di soldi urbanistiche. Andiamo avanti, grazie. Ecco, ancora oggi, osservando una vista zenitale del territorio portofolio Porta Maggiore, l'esculino, la trama dei tessuti che la costituiscono mostra con evidenza il disegno di disomogeneità costituito dalle tante tessere di quel mosaico urbano che stenta ancora a trovare un suo assetto di coerenza legato come ad una fase di formazione che ha attraversato oltre un secolo di storia. Andiamo all'ultima immagine. Ecco, questo è il libro che ho avuto il piacere di scrivere 15 anni fa, che racconta la storia di questo territorio e le immagini che avete visto sono trovate tutte da questo libro. Grazie. Grazie. Sono stato nel tempo? Sono stato nel tempo? Un pochino più lungo, ma all'interesse davvero di queste immagini della storia. Sono dovuto confinere tantissimo. No, 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 è una storia... Volevo dare un quadro completo per capire come questo territorio si è formato nel corso degli anni. Fermandomi comunque agli anni 20-30 che poi, diciamo, l'hanno ripresi dall'intervento, dagli interventi che mi si chiama. Grazie. Esatto, benissimo, grazie. Tra l'altro scrivono nei commenti Stefani Marinelli, scrive nei commenti, in Serono ho lavorato dall'81 all'89, lì ci sono le mie origini. Quindi sì, è una storia antica, una storia che ci racconta della formazione di un quartiere attraverso l'insediamento di stabilimenti industriali, ma è anche una storia che arriva fino ad anni recenti. Da Serono fino a quando è stata aperta? Da quando ha lavorato? Credo che a fine del novecento... A fine del novecento. Poi comunque si è trasformata perché è stata inglobata in una multinazionale, la MEX, poi ha attivato un programma di riqualificazione dello stabilimento e all'interno dell'attuale stabilimento. Esistono ancora degli uffici della Serono, però la fabbrica ha delocalizzato, adesso attualmente via del Pigneto c'è tutt'altro, un centro congressi, tante altre cose belle, ma non più la fabbrica. Tra l'altro la Serono, appunto in una vecchia sede della Serono, ora ha sede invece la biblioteca Mameli, dove idealmente siamo. E adesso quindi parliamo della viscosa, quindi delle realtà industriali che attirano la popolazione nel quartiere e appunto la particolarità della viscosa, ce la veniva accennata da Severino, questo di essere un attrattore soprattutto di lavoratrici, di donne, da fuori regione, quindi dall'ambito regionale ma anche da fuori regione. Quindi passiamo con questo alla relatrice che segue, che è Maria Lepre, del centro di documentazione Maria Baccante dell'archivio storico Viscosa, quindi siamo a pochi metri dalla biblioteca Mameli, dall'altro lato della via Prenestina, dove c'è questa realtà di grandissimo interesse. Ti lascio la parola a Maria Lepre. Buongiorno a tutti e tutte, io innanzitutto devo fare una comunicazione che purtroppo non potrò trattenermi per tutta la durata dell'incontro, quindi farò il mio intervento e dovrò scollegarmi. Però per qualsiasi tipo di curiosità, di domanda, di semplici informazioni potete mandarci una mail all'indirizzo infochiocciolaviscosa.org oppure immagino anche agli indirizzi degli organizzatori. Allora sì, oggi vi parlerò delle migrazioni interne legate alla Viscosa di Roma, ma prima mi piacerebbe un po' raccontarvi che cos'è il nostro archivio, che cosa conserva e essenzialmente che cosa facciamo all'interno del territorio. Allora, l'archivio conserva la documentazione della Viscosa di Roma che vediamo nell'immagine. È una fabbrica che produce seta artificiale, attiva da 23 al 53 e chiusa definitivamente nel 55. Lo stabilimento alla sua apertura accueva circa 2500 operai, di cui per l'appunto una buona percentuale di donne e come possiamo vedere si estendeva su una superficie molto vasta, parliamo circa di 14 ettari di terreno, dove possiamo vedere per l'appunto che nella parte superiore dell'immagine vediamo l'opificio in sé, quindi il luogo di produzione della seta artificiale, mentre nell'immagine in basso vediamo altrettanti 7 ettari di terra a cui erano destinati servizi per operai e operai. Nello specifico qua si possono vedere quattro dormitori che ospitavano ognuno 120 posti letto, il convitto interno che ospitava anche delle cappelle per donne e per uomini, l'alloggio delle suore, il campo sportivo, quindi tutta una serie di servizi che venivano date agli operai e agli operai. La produzione della seta artificiale avveniva attraverso il metodo alla viscosa, un metodo molto economico e molto nocivo, tanto è vero che gli operai e le operai che lavoravano la viscosa si ammalavano proprio perché venivano utilizzate sostanze tossiche come il foro di carbonio. Che cosa conserva il nostro archivio di tutto questo stabilimento? Noi conserviamo la documentazione relativa all'ufficio del personale, parliamo di 28 metri lineari di documenti, schede o fascicoli, suddivise in 5 sottoserie. Poi abbiamo i documenti afferenti all'ufficio tecnico della fabbrica, quindi planimetrie e disegni dei macchinari, ancora in fase di riordino e quindi purtroppo questi ancora non consultabili e poi dei documenti relativi invece allo stato di salute degli operai e delle operaie. Come nasce il nostro archivio? Allora l'archivio si inserisce in un percorso di lotte che inizia nel 1995 e ad oggi non è ancora concluso. In quella data infatti alcuni attivisti e abitanti del quartiere ostacolano un tentativo di speculazione all'interno dell'area messo in atto dal proprietario dello stabilimento che prevedeva per l'appunto la costruzione di un centro commerciale. Fu in quell'occasione di occupazione che gli attivisti e gli abitanti trovarono questo archivio e lo misero in salvo perché poi di lì a poco gli edifici dove furono trovati i documenti andarono praticamente a fuoco. In quella data, sempre in quegli anni, in quel tentativo di speculazione nasce anche quello che noi oggi conosciamo come il lago bullicante ex snia, ossia praticamente nel tentativo di speculazione nella costruzione di questo centro commerciale, viene intercettato il condotto che incanalava la falda acquifera, viene rotto e quindi affiora il lago. Da lì inizia tutta una serie di mobilitazioni per salvaguardare quell'area e per renderla monumento naturale, una lotta che continua ancora oggi perché nonostante abbiamo ricevuto questa approvazione e riconoscimento del monumento naturale quest'anno, quindi a distanza circa di 30 anni, però ad oggi il monumento naturale prevede soltanto una piccola area, invece quello che si chiede è che tutta l'area, tutto il perimetro dei 14 ettari venga riconosciuto come monumento naturale e dunque salvaguardando non solo quel patrimonio naturalistico che conserva il lago, ma anche il patrimonio storico che conserva tutto questo stabilimento. Quando furono trovati questi documenti nel 1995 vennero depositati e conservati presso il centro sociale ex SNIA che nasce praticamente nello stesso anno e da lì subito gli attivisti del centro sociale si resero conto della potenza e della valenza di questa documentazione per ricostruire la storia sociale del territorio. Nel 2012 otteniamo l'approvazione da parte della sovrintendenza di notevole interesse storico e dunque trasferiamo l'archivio alla casa del parco delle energie dove praticamente è stato ristrutturato uno di quei quattro padiglioni che facevano parte dei dormitori dello stabilimento e nel 2015 ci trasformiamo polo archivistico e quindi centro di documentazione in grado di raccogliere anche altra documentazione per renderla fruibile. Quali sono gli obiettivi del nostro archivio? Innanzitutto abbiamo detto che per l'appunto per noi è di fondamentale importanza la ricerca sociale e storica del nostro territorio. Per questo cito soltanto un'iniziativa trattante e la storia nelle strade, un'iniziativa in cui abbiamo fatto uno studio e delle ricerche importanti su partigiani antifascisti del nostro quartiere, abbiamo realizzato e installato dei pannelli di fronte a queste case e quindi abbiamo reso accessibile la loro storia anche alle persone che frequentano abitualmente le strade del quartiere. Una seconda attività di fondamentale importanza per il nostro archivio è l'attività didattica che svolgiamo con scuole di ogni ordine grado fino all'università e poi ovviamente c'è la ricerca, motivo per cui oggi sto qui a parlare con voi. Per quanto riguarda le migrazioni interne legate alla discosa, questo mio intervento di oggi si inserisce in realtà in una ricerca molto più vasta che ho iniziato nel 2014 e concluso nel 2016 per la stesura della mia tesi di laurea magistrale dal titolo La discosa di via pranissina e fascismo, conflittualità operaia e lo sciopero del 1924. Praticamente all'interno della mia tesi porto avanti la tesi che lo sciopero che si verificò alla discosa nel 1924 non fu un moto spontaneo ma bensì si trattò di uno sciopero organizzato dalla cellula comunista presente nello stabilimento. Ovviamente per analizzare questo sciopero del 1924 io vado ad analizzare quelle che sono le condizioni di vita degli operai, quindi che significa? Che vado ad analizzare il costo della vita del 24 e comunque di quei primi anni 20 per capire quali furono, quale fu il valore d'acquisto dei loro salari, il valore d'acquisto reale dei loro salari, vado ad analizzare le condizioni abitative, vado ad analizzare le condizioni di lavoro, quindi le paghe e la mobilità e i dati anagrafici. I dati anagrafici tre dati fondamentali ossia sesso, età e provenienza che sono dei dati fondamentali per la determinazione del salario. Che significa? Significa che essere donna e significava percepire, anche come avviene oggi purtroppo, percepire un salario inferiore e quindi era un beneficio da parte del produttore che per l'appunto pagava di meno la forza lavoro. Essere donna e essere minorenne significava per l'appunto percepire un salario ancora più basso e abbiamo potuto studiare attraverso anche questa ricerca, ma anche attraverso altri dati che sono immersi comunque dal nostro archivio, che essere una donna, essere minorenne e provenire dal comune di Casarsa nel Friuli significava percepire anche una paga minore rispetto a una donna che invece era nata a Roma. Lo studio che ho condotto e l'ho condotto praticamente sulla prima sottoserie che noi conserviamo in archivio che provo a farvi vedere nell'immagine, non so se si vede, eccola qua, praticamente questa è la prima sottoserie che conserviamo dell'ufficio del personale dove si vede che ci sono dei dati molto minimi, abbiamo il nome, il cognome, il patronimico, la data dell'ammissione, il reparto che in questo caso ovviamente non c'è, il luogo d'abitazione e poi il licenziamento e la motivazione del licenziamento. Ora questa prima sottoserie che abbiamo detto che è molto importante perché va dal 23 al 25, ai fini della ricerca ovviamente quest'arco cronologico è fondamentale sia perché rappresenta un prima, un durante e un dopo lo sciopero, ma è molto importante perché gli anni 20 rappresentano un momento di svolta per il settore industriale delle fibre artificiali, tant'è vero che nei primi anni 20 questo settore ha un incremento, uno sviluppo esorbitante, basti pensare soltanto che nel 1925 l'Italia raggiunge il secondo posto nella scaletta mondiale dei produttori e il primo posto nella scaletta mondiale degli esportatori, quindi parliamo di livelli di produzioni altissimi in Italia negli anni 20. Come fu possibile raggiungere questa produzione così alta? Attraverso lo sfruttamento degli operai e delle operaie, in che modo? Diminuando il salario, aumentando le ore di lavoro, aumentando le mansioni che venivano affidate a questi operai e specialmente attingendo da una disponibilità quasi illimitata di giovani mano d'opera che proveniva essenzialmente da campagne venete e del sud Italia, che poco istruita è disposta ad accettare delle condizioni di lavoro ai limiti della resistenza fisica per poi percepire un salario di sussistenza. Infatti questi sono degli anni, come per l'appunto ci raccontava anche Severino, di fondamentale importanza anche per quella che è l'immigrazione all'interno della capitale. Ci sono migliaia e migliaia di persone che si riversano nella capitale anche dalla povertà da cui vengono respinti dalle loro campagne e queste persone vanno ovviamente ad aumentare la popolazione creando anche tutta una serie di cose, come si parlava anche prima, come per esempio la carenza degli alloggi, gli alloggi costavano tantissimo, il che significava che spesso in un alloggio nella migliore delle ipotesi diversi nuclei familiari dovevano abitare all'interno dello stesso alloggio oppure nella maggior parte dei casi costruire degli alloggi di fortuna, ossia quei cosiddetti baraccamenti, quegli alloggi costituiti da, per l'appunto, mezzi di fortuna. Passiamo allo studio, passiamo allo studio che ho condotto. Mi chiedere di riuscire entro i cinque minuti a... Sì, 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 ce ne metterò a sei. Lo studio è stato condotto attraverso il campionamento casuale semplice, che è un campionamento statistico e prelevando il 30% della prima sottoserie, quindi 400 schede su un universo complessivo di 1300 schede. Allora, la nostra ricerca fondamentalmente ha confermato quelli che sono poi i dati ufficiali, ossia Lanfranco Maroi, statista e demografo del regime fascista e direttore dell'ufficio di statistica del Comune di Roma dal 22 al 50, che cosa ci dice? Ci dice che la crescita nella capitale dal 1911 al 1921 è maggiore rispetto a qualsiasi altro capoluogo e queste provenienze vengono essenzialmente da Lazio, ma se noi andiamo a sottrarre queste provenienze dal Lazio, dal resto dell'Italia centrale, vediamo che quella percentuale che resta è inferiore all'Italia meridionale. Infatti, se noi andiamo avanti con l'immagine, lo studio che ho fatto è rispetto a tutte le regioni dell'Italia, quindi se noi andiamo a sottrarre a quel 72,57%, il 38,56% degli operai e le operai che erano del Comune di Roma, del 20,30% che invece proveniva dalla provincia di Roma, resta una percentuale comunque inferiore rispetto agli operai e alle operaie che provenivano invece dal sud Italia e quindi parliamo dell'Abruzzo, Campania, Puglia, Molise, eccetera. In questi dati di particolare importanza abbiamo i dati del Veneto che sono un 4,11% di provenienze. Le campagne del Veneto sono importanti per due motivi, una è quella che ha detto Severino per l'appunto perché il proprietario, anche in questo caso della Viscosa di Roma, aveva fabbriche anche in Nord Italia e quindi quelle donne specializzate venivano accolte nel nostro stabilimento per formare altre manodopera, ma è anche vero che quelle campagne furono delle campagne sempre comunque determinanti per quello che fu il settore anche della seta naturale, quindi nel momento in cui entra in crisi quel settore, quelle donne inoccupate vennero per l'appunto occupate all'interno di questi nuovi settori. Per quanto riguarda, andiamo avanti con l'ultima immagine ed è l'argomento conclusivo, per quanto riguarda la residenza degli operai, qui ho utilizzato e ovviamente prima mi sono dimenticata di dire che la conformazione della cartina è quella che segue le regioni del 1924 e così come la cartina che vediamo adesso è una cartina del 1926 perché nel 1926 vengono istituiti 19 nuovi quartieri. Allora, dallo studio che cosa è emerso ovviamente? Che questi nuovi operai che andavano a lavorare alla Viscosa, che arrivavano a Roma, andavano poi ad abitare nei quartieri e quindi non nel centro. Vediamo le percentuali, allora un 33,43% ovviamente andò ad abitare a Trenestino che per l'appunto è il luogo dove nasce la fabbrica, seguito poi dal Tuscolano con l'11,61%, il Tiburtino con il 9,92%, quindi vediamo comunque una percentuale molto alta rispetto invece a quell'1,70% degli operai della Viscosa che risiedeva all'interno delle mura della città, quindi a Trastevere, a Prati e così via dicendo. Dunque che cosa emerge praticamente dalla nostra ricerca e con questo chiudo? Che praticamente viene, nonostante diciamo questo processo di industrializzazione che colpisce questa zona della città, non migliorano le condizioni di vita degli operai e delle operaie, anzi si viene a creare una periferia lontana, una periferia dove si percepisce comunque e si vive un disagio economico e sociale e si crea quindi una periferia di invisibili, una periferia di senza diritti che vivono in delle condizioni allo stremo della decenza che poi se vogliamo diciamo è la stessa periferia anche che viviamo oggi, dove abbiamo ancora questa forte densità abitativa, basti pensare semplicemente che a questi contagi del Covid nei nostri quartieri ci sono state delle percentuali altissime proprio grazie a questo grado altissimo di densità abitativa, ma resta ancora l'emergenza abitativa nei nostri territori e dunque continua purtroppo ad avvenire quello che è iniziato un secolo fa come la negazione anche all'accesso della cittadinanza, quindi a tutta una serie di diritti delle periferie rispetto al centro. Ecco, io ho concluso. Mi dispiace di essere stata troppo... Grazie, anzi scusami tu se ti ho richiamato diciamo al rispetto rigoroso dei tempi, ma altrimenti poi non riusciamo a garantire anche uno spazio finale per la discussione. Grazie mille per questo intervento, questi piccoli materiali e tra l'altro appunto materiali e slide che saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito roma150immigrazioni.it come potete leggere nei commenti. Grazie Maria che appunto tra l'altro ci hai parlato proprio dall'archivio della viscosa, proprio nel luogo dove sono conservati questi importantissimi documenti. Grazie allora, buon lavoro. Grazie a voi. Appunto dalla viscosa passiamo a poche centinaia di metri verso l'esterno al borghetto predestino dove abbiamo un collegamento con Stalker, Stalker Osservatorio Nomade, un'associazione che da molti anni è attiva nel territorio, una situazione che si occupa di territorio andandolo proprio a studiare, ad abitare, a modificare, a vivere. E appunto questo è un collegamento in esterno proprio da questo borghetto di cui adesso appunto ci racconteranno alcune notizie. Buongiorno. 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 Buongiorno Giulia. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Esattamente da pochi metri dove era l'archivio e dove era la fabbrica, ora siamo qui sul sito dove fino al 1980 molte persone trovarono ospitalità ed è il borghetto predestino. Tantissime persone sia romane ma soprattutto migranti, in questo caso specialmente dall'Abruzzo e dalla Calabria, a volte da un singolo paese perché con il passaparola dal paese si arrivava direttamente nel borghetto e si trovava ospitalità in una baracca. Il primo insediamento del borghetto predestino risale al 1930 con la borgata predestina, una borgata ufficiale dove trovarono ospitalità, trovarono casa gli sfollati degli sventramenti del centro storico, in case cosiddette rapide perché erano case in muratura di un piano con una singola stanza, una cucina e i servizi dove c'erano erano esterni, quindi condizioni molto malsane. E poi negli anni questo primo insediamento si sviluppò molto fino ad essere considerato per numero di persone e per estensione il maggiore. Questo anche per la sua posizione strategica rispetto alla città. Nel 1939 viene aperta la stazione predestina e quindi la linea ferroviaria Roma-Sulmona e quindi diventa un accesso dall'Abruzzo diretto, un accesso da fuori a dentro la città, ma con la presenza della fabbrica cisaviscosa sicuramente l'argo predestino da subito diventa un nodo centrale per l'apertura del tram e quindi un collegamento diretto con il centro della città. Le condizioni erano sicuramente di degrado, molto malsane per condizioni igieniche e di vita, ma c'era anche un aspetto molto di grande umanità, un aspetto di grande socialità. Ci si aiutava, ci si conosceva, era una sorta di città dentro la città, in cui ci furono anche esperienze molto interessanti. Molti artisti intellettuali vennero qui, questo è il luogo dove Pasolini incontra Ninetto Davoli, che qui viveva, ma ci furono anche esperienze dei cosiddetti preti di strada che decisero di venire ad abitare qui e mettere a disposizione il loro lavoro come preti operai da palegnami, fabbri e altri calzolai a disposizione della comunità che qui viveva. E all'interno di questo, che a Roma c'era una mappa degli anni 70, un centinaio di insediamenti del genere, ci furono anche le esperienze delle scuole popolari, scuole dopo scuola per i bambini delle baracche, in quegli anni c'erano ancora le scuole differenziali, quindi una grande discriminazione per i bambini che avevano bisogno di un supporto per la scuola della mattina, che furono esperienze importanti, sia dal punto di vista sociale, culturale e politico. E quindi lascio ai baraccari di allora, al doposcuola del Borghetto Prenestino, raccontare quell'esperienza. Voi avete fatto festa perché da cento anni Roma è capitale d'Italia, siamo nel 1971. Vi ricordate che siamo uniti tutti quanti italiani, invece siamo divisi. Vicino ai palazzi di lusso ci stanno le baracche dove viviamo noi operai. Qualche volta ci ragioniamo e andiamo a occupare le case. Ci portiamo i materassi e le coperte per esistere di più. Nella mattina vengono i camion pieni di poliziotti e ci cacciano via. Intanto a Roma ci stanno 30.000 appartamenti vuoti. Di chi la colpa? Nove famiglie sono padroni di quasi tutti, tutta la terra di Roma. Questi proprietari non danno il terreno al comune per farci case per i lavoratori. Se lo tengono e ci costruiscono appartamenti di lusso e li vendono per tanti soldi ai ricchi, perché ci guadagnano di più. Il comune non prende la terra ai nove uomini, perché sta dalla loro parte e non fa pagare loro nemmeno le tasse. Mentre noi stiamo come 60 anni fa. Se la cucina è grande, i letti rimangono anche durante il giorno, ma se è piccola i letti sono rialzati e le metareassi è appoggiata alle pareti o messa nel cesso. Vicino a me alcune persone dormono in quattro in un letto matrimoniale. In un letto e ci entra una sola persona, si mettono in due, una da piedi e una sopra. La sera io ai topi li tiro con la scarpa. Quando piove mio padre mette la bagnarola sul letto. Noi non possiamo andare ad abitare nei palazzi perché ci chiedono un affitto alto. Poi i nostri padri sono quasi tutti manovali e muratori e stracciaroli. Sono sfruttati e guadagnano poco. Ecco, poi continua. Però per dire che queste esperienze furono anche molto importanti per una coscienza politica e in quegli anni nasce proprio anche il movimento di lotta per la casa. E quindi qual è l'importanza di ritrovarci qui, in quel luogo abitato per tanti anni da queste storie della città che a volte sono invisibili, non sono molto raccontate. E quindi voi vorremmo lasciare un invito a tutti di costruire insieme una zattera. Sì, buongiorno a tutti. Sono Renzo Romito, anch'io di Stalker. Appunto Stalker cerca di creare le occasioni, i dispositivi, le modalità, abitando i luoghi e intercettando le persone che li conoscono, li abitano, di evocare le memorie spesso dimenticate di questa città, soprattutto quando si tratta di memorie subalterni. La zattera è un progetto artistico, è un oggetto, è una zattera di salvataggio che va alla deriva nelle pieghe, negli interstizi della città per raccoglierne appunto storie, memorie, immaginari e collegarli anche alla possibilità attraverso di questi di costruire un immaginario possibile per questa città. Qui al Borghetto Prenessino è uno dei cantieri che stiamo aprendo, che abbiamo aperto con il progetto la zattera. Un cantiere, ci piace, ecco, connettere la storia di questo posto incredibile, adesso siamo qui con Piero e ve lo presento, ma vi volevo dire questo, la storia con la reinvenzione, cioè Roma in questi spazi appunto ha praticato forme di lotta, di resistenza, ma anche di innovazione sociale, di invenzione, di strade verso il futuro. Ecco, per collegare, diciamo, la storia di questo posto a un immaginario che frequentiamo fortemente, partecipando alla vicenda del lago Policante con il forum territoriale, alla rete ecologica di Roma Est, proponiamo di raccogliere queste memorie lasciando una traccia labile, che anche Piero ci sta aiutando a costruire, una traccia di com'era questo spazio, di quante strade, di chi lo abitava. Per ognuna di queste bracche vorremmo piantare un albero, in modo che da questa storia resti la memoria di un bosco, un bosco che sia appunto a fianco a questo ecosistema del momento naturale della terra riscosa, in continuità con una serie di spazi vuoti, un bosco che possa rigenerare la natura in questa parte di Roma, un bosco come i boschi sacri degli antichi, in cui la città rinasce. Per fare questo vi invitiamo tutti a scriverci sul gruppo e iscrivervi, a partecipare al gruppo di Facebook Memorie del Borghetto Prenestino. Siamo qui con Piero Amen, prego Piero facci vedere, dove stiamo? Siamo a Borgata Prenestina dove c'erano ancora le baracche, noi siamo qui, adesso c'è la chiesa la chiesa che sarebbe questa, e noi siamo qui, abbiamo un campo qua, un campo qua, un campo qua, dall'altra parte altri campi, questa parte qua adesso non c'è più, ma qui abbiamo tutto parcheggio, qui abbiamo i campi da padel, qui tutto prato abbandonato, cose che potrebbero fare tante cose le istituzioni ma non fanno mai niente. dove siamo adesso? L'unica cosa, ecco, dove siamo adesso? Dove siamo adesso? Mi ha detto che era la piazza questa. Sì, è la piazza della Borgata Prenestina, cioè il Borghetto Prenestina, in poche parole, via Secondino, qui si terminavano tutte le vie, ma erano tutte le vie piccolette che si andavano da una casa a un'altra, però alla fine, la domenica stavano tutti in questa piazza, ognuno raccontava le cose sue, la gente che lavorava, quello che avevano fatto durante la settimana, e noi ragazzi magari ci divertivamo, ecco, dopo la scuola, andare al cinema, oppure a giocare i soldi in giochi dei ragazzi. E ti veniva a trovare qui? Veniva, spesso un innetto tavolo, cioè Pasolini, il problema è che Pasolini veniva qui perché cercava dei ragazzi che avevano bisogno di soldi, cercava che a parlarsi portasseli con loro, magari dammi una possibilità, mentre invece era tutta una cosa pazza, l'unica persona che ci è riuscito è stato un innetto tavoli, magari non so, abitava proprio qua, in questa è la maiole, le vendevo qua, ecco, proprio qua abitava. Quando veniva Pasolini veniva sempre con 2003 Ferrari, oppure Farina, oppure Guadino Ferrari, perciò era uno che aveva i soldi, non sapevano neanche che era Pasolini quando arrivava, pensavamo uno che c'era i soldi e basta, perché per noi per vedere il cinema era pure tanto. avveniva pure Madre Teresa di Calcutta. Maria Teresa di Calcutta veniva spesso qui alla Borgata, nella Borgata, ma stavano alle suole, non stava qui alla chiesa, ma nelle suole, suole francese, poi di fronte ci abitavo io con mia madre e mio padre. E voi da dove siete venuti? Noi dalla Calabria, nel calcolo del 1960. Dove esattamente? Da Spillace, provincia Catanzani. Oravate tanti dalla Calabria qui? Sì, a mano a mano siamo detti a tutti i calabresi, mi sembrava di essere dentro una mafia completa, però eravamo bravi persone, il Tindecotti chi lavorava, ognuno faceva il dovere suo, senza di affasire un altro. L'unico problema è che tutti ci guardavano in un modo molto discrepante, ci consideravano proprio degli scarti umani, mentre invece noi di cuore eravamo generosissimi, se guardavamo l'uno con l'altro, cosa che invece chi abitava ai palazzi non conoscevano anche la persona che abitava all'appartamento di fronte. Grazie mille, grazie mille. Grazie, arrivederci. Vediamo l'ultimo. 21 gennaio faremo un intervento artistico in questo luogo e vorremmo essere in tanti, lo faremo anche insieme all'Associazione Sguardo in Giro che da anni è presente qui a Villa Gordiani. Che giorno scusa Giulia? Non ho capito il giorno. 31 giorni, una domenica, speriamo di sole, all'aperto, vorremmo essere proprio qui sul luogo e trovare la modalità insieme di ricordare quelle storie. Invitiamo tutti quelli che conoscono questo posto, che hanno documenti, a partecipare, a venire a ricostruire questa mappa. Benissimo, benissimo, grazie mille. Allora appunto per il borgetto penestino rimandiamo il gruppo Facebook che è segnalato al 31 gennaio per chi vuole seguire questo interessantissimo progetto. Tra l'altro la Zattera è un percorso artistico, sociale che durerà tre anni, quindi appunto iniziamo con questo collegamento, anche una collaborazione, un'attenzione reciproca di cui siamo molto contenti. Grazie, un saluto. Appunto introduco e do la parola alla prossima relatrice che è, come potete vedere, Sara Rossetti, studiosa di migrazioni, autrice del libro Cota, donne bangladesi nella Roma che cambia, edito da EDS nel 2018, libro in cui tra l'altro viene anche un po' evocata parte di questa storia dei baraccati, delle migrazioni interne, ma per poter poi concentrarsi su un passo successivo di questa vicenda, della vicenda appunto dei mutamenti urbani, dei mutamenti sociali innestati dalle migrazioni. Quindi il passaggio alle migrazioni dall'estero, di cui appunto Sara ha studiato in particolare la comunità bangladese, ma su questo appunto le lascio la parola e le lascio appunto i 15 minuti per la sua relazione. Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Io innanzitutto ringrazio le biblioteche di Roma e Ismed che mi danno l'opportunità di raccontare un po' appunto quello che ho scritto nel libro Cota di cui sono coautrice insieme a Satusha Carnat e di parlare di una Roma che sta cambiando, ma abbiamo visto che non sta cambiando solo adesso con le migrazioni internazionali, come si potrebbe pensare, ma grazie alle relazioni precedenti abbiamo visto come ci siano delle stratificazioni continue della città. E quindi mi fa molto piacere parlarne in questo modo, credo che sia proprio questa la strada, ossia attraverso uno sguardo multidisciplinare, come stiamo facendo oggi, e da più voci, anche quelle dei testimoni, come è avvenuto prima e come avverrà poi dopo. E soprattutto queste più voci ci consentono di fare emergere conflitti, come ho detto, stratificazioni e resistenze di migrazioni che molto spesso vengono raccontate in due modi principalmente, o drammatizzando o edulcorando, no? Questa cosa è molto curiosa, c'è chi drammatizza, estremizza anche con esternazioni di tipo populista o vogliamo dire anche rassista e chi invece le vuole edulcorare, soprattutto quelle interne magari, no? Raccontando oggi che non ci siano stati problemi, che non ci siano stati conflitti e resistenze, invece la giornata di oggi insomma ci sta ridando, restituendo la complessità, complessità che mentre ascoltavo, insomma, mi ha fatto venire in mente anche, qui cito, i lavori di Portelli, ad esempio su Borgo Don Bosco, su Cento Celle, il signore che diceva, eravamo visti come dei reglietti, no? E sostanzialmente, beh, questo insomma, se mi permetto per chi ci sta ascoltando e vuole leggere e che non conosce i lavori di Alessandro Portelli, potrebbero sicuramente fare al caso, insomma, per approfondire. Quindi le migrazioni internazionali in Italia e Roma hanno una storia abbastanza lunga e qui invece cito Michele Colucci con il suo lavoro sulle migrazioni internazionali dal dopoguerra in poi, ma che i numeri più grossi, diciamo, più significativi cominciano dagli anni 70. In tutta Italia i primi ad arrivare sono soprattutto persone che vengono dalle ex colonie, sono le badanti, capoverdiane, qui faccio un escursus molto veloce ovviamente, e poi con la caduta del muro molti migranti dall'est. Per le migrazioni asiatiche, africane, quelle che abbiamo oggi, che ci sembrano forse più numerose anche nel territorio, dobbiamo aspettare invece forse gli anni 80, un po' più in là. Nella zona, pensiamola ad ampio raggio, il primo quartiere forse che accoglie molti stranieri è l'esquilino, soprattutto migranti asiatici vanno ad occupare dei posti anche di attività commerciale che gli italiani piano piano cominciavano ad abbandonare, insomma qui fa un po' da polo il mercato anche dell'esquilino. Che cosa succede? Questi migranti, e qui arrivo al dunque, perché vi racconterò soprattutto della comunità bangladesi, e molti di questi migranti vengono dal Bangladesh, via via stabilizzandosi, si spostano sempre verso più a sud nella città, nella geografia cittadina, e a sud-est, seguendo in particolare la direttiva della Roma Giardinetti, possiamo dire. E qui arriviamo un po' più al presente, vi dico, vi anticipo, che ultimamente si stanno spostando ancora più verso le periferie, addirittura la cinta urbana della città metropolitana, del comune di Roma e di tutto il territorio della città metropolitana. Vado subito sul focus di questa comunità bangladesi, che è quella che agli occhi balsa di più, e potete vedere anche, mentre parlo, delle foto di un fotografo della città che opera da più di dieci anni nelle comunità migranti, Stefano Romano, sono dei momenti di vita comunitaria proprio della comunità bangladesi. Quando compaiono i primi bangladesi a Roma, compaiono a fine anni Ottanta, e alcuni di loro si rendono protagonisti di uno degli eventi che contrassegna un po' il cambiamento anche di narrazione, o la presenza nella narrazione e nell'opinione pubblica degli stranieri, che è l'occupazione dell'ex Pantanella sulla via Casilina. Molti di loro sono stranieri, la maggior parte sono stranieri e moltissimi sono bangladesi. I primi ad arrivare chi sono? Sono soprattutto dei giovani uomini di status medio-alti che cercano un futuro migliore. Cercano un futuro migliore perché in Italia? Perché già dagli anni Settanta alcuni degli sbocchi classici della diaspora bangladesi si erano chiusi su tutti quello dell'Inghilterra, c'erano state delle restrizioni sugli ingressi. Quindi a fine anni Ottanta arrivano i primi giovani uomini, molto spesso rimangono delusi dalle condizioni di vita qui in Italia. Come dicevo, loro erano di status medio-alti, ma l'Italia non gli offre quello che loro si aspettavano, quello che la narrazione delle migrazioni, soprattutto in Inghilterra o in altri paesi, risultava poi a chi viveva in Bangladesh. In questa prima fase ci sono pochissime donne. Quando aumentano le donne? Le donne aumentano a partire dagli anni 2000, quando la migrazione comincia a diventare più familiare, quindi gli uomini che erano arrivati prima cominciano a richiamare le donne per ricongiungimento familiare, essenzialmente donne che poi in Italia saranno soprattutto casalinghe, ma non solo, e negli anni zero cominciano a aumentare donne minori e ci si comincia a stabilizzare di più in alcune zone come quelle di cui stiamo parlando oggi, ad esempio il Pigneto e Torpignattara. Torpignattara che è un esempio emblematico, forse a Roma quasi l'unico, con altre poche eccezioni, di identificazione territoriale di una comunità. Ormai Torpignattara è conosciuta come Banglatown, anche se poi se andiamo a vedere i dati, forse la popolazione straniera intorno al 10%, ma la percezione forse che fa molto più dei numeri e soprattutto il modo di vivere, di vivere il quartiere, di vivere la città. Vedete le foto, ci sono diverse foto di momenti comunitari, perché la comunità bangladese diciamo che vive molto il territorio, sotto diverse forme, passeggiando per Pignattara possiamo vedere moltissimi negozi bangladesi dai ristoranti, internet point, mini market, alimentari, ma andando più nel profondo e conoscendo le persone e le realtà, non c'è solo questo. Infatti la stabilizzazione familiare, c'è la presenza di molte famiglie con bambini minori, un altissima percentuale di cittadini di origine bangladesi sono minori, oltre al fatto che hanno anche un'età media molto bassa, più le donne che gli uomini. Ad esempio le scuole, abbiamo l'esempio della scuola Pisacane, dove ci sono buone pratiche di, diciamo, tra virgolette integrazione, inclusione, ma non solo, la comunità vive il quartiere e riesce a riportare delle forme di vita, delle consuetudini che ci sono nel paese di origine nel territorio. Qui vediamo delle feste, forse andando avanti, non so, comunque si erano già viste delle danze, delle danze popolari che vengono fatte, ecco qui, nelle feste della comunità. Questo è molto interessante perché parlo delle feste. A Torpignattara, come dicevo, non ci sono i negozi, ma ad esempio ci sono anche delle scuole di canti e musica popolare bangladese, perché qui racconto un po' meglio quello che abbiamo fatto nel libro e le interviste che abbiamo fatto. Il Bangladesh è un paese molto giovane, ha ottenuto l'indipendenza nel 1971 e i cittadini hanno una forte componente identitaria, hanno quasi un bisogno viscerale di mantenere un contatto, non solo il contatto che noi immaginiamo più comune, quello di sentire ai parenti, fare delle videochiamate, ma anche un contatto di tipo culturale. Quindi sono molto forti queste manifestazioni e molto importante, soprattutto nel caso delle nuove generazioni, l'insegnamento della lingua madre e di altri aspetti della cultura. La lingua madre su tutti, qui faccio un po' un piccolo rimando alla storia del Bangladesh. Il Bangladesh prima di ottenere l'indipendenza aveva già combattuto diverse battaglie, c'erano stati diversi episodi in cui la popolazione bangladese provava a staccarsi da quello che era il paese occupante, il Pakistan. Ricordiamo che dopo l'ascissione dell'India, dopo la partizione, il Bangladesh non diventa indipendente, ma diventa Pakistan orientale. Di fatto Pakistan e Bangladesh c'erano un paese unico con il Pakistan che aveva un po' la supremazia a livello amministrativo, politico. Quindi i bangladesi combattono per poter parlare la propria lingua madre. Negli anni cinquanta vengono uccise anche delle persone in una protesta all'università di Dhaka. Quindi che cosa succede? Per i bangladesi è molto importante trasmettere la lingua e alcuni aspetti della cultura legati alla letteratura, alla storia e alla politica anche alle nuove generazioni. Per questo, appunto, dicevo, lo sguardo che noi abbiamo passeggiando per le strade di Torpignattara non sempre poi riesce a approfondire questi fattori, no? Questi fattori che vanno a intersecarsi con l'educazione delle nuove generazioni, l'educazione nelle scuole, che però molto spesso viene accompagnata da questo tipo di educazione e non soltanto da quella religiosa, no? Come si può immaginare, il bangladesi è un paese a maggioranza islamica, la prima cosa che ci viene da pensare è che la prima educazione delle nostre nuove generazioni di chi risiede in Italia sia quella religiosa. Invece, diciamo che è multivariegata, non c'è solo quella, c'è anche questo aspetto fortemente politico, storico, linguistico e culturale. Passando alle donne, perché ecco, quello che vorrei che passasse, no? È che, perché si fa un'analisi delle migrazioni, anche per cercare di capire come le nuove generazioni e le famiglie vivano e credo che sia imprescindibile non parlare di nuove generazioni e di donne. Come vi dicevo, le donne del Bangladesh arrivano un po' dopo rispetto agli uomini, infatti diciamo che il boom nei dati negli anni 90, la componente femminile era più o meno, così ricordo a memoria, circa del 2%, oggi siamo arrivati quasi al 30%, perché una volta che gli uomini si sono stabilizzati chiamano le moglie. Molto spesso queste donne hanno fatto dei matrimoni combinati, da non confondere con i matrimoni forzati di cui si parla spesso, ma il matrimonio combinato è un matrimonio in cui le famiglie fanno una sorta di accordo e i due sposi hanno l'ultima parola, almeno così è nelle versioni un po' più moderne, l'ultima parola sulla decisione di sposarsi o meno. Molte di queste donne che giungono in Italia si sposano proprio così, sono di solito di uno status, di un titolo di studio più alto rispetto a quello dei propri mariti, sono più giovani. Perché questo succede? Perché l'uomo che vive in Europa, che vive in Italia, ha un potere contrattuale nel matrimonio maggiore, quindi riesce ad avere una moglie più giovane e più istruita di uno status sociale superiore al suo. Queste donne, una volta che vengono in Italia, molto spesso vivono come casalinghe, si prendono cura dei figli e non hanno moltissime possibilità di uscire. I motivi sono veramente vari, qui c'è una complessità dietro a questo che io sto dicendo, sto parlando soprattutto di dati, no? I dati dicono che la maggior parte delle donne del Bangladesh sono casalinghe, che parlano poco l'italiano e che quindi hanno delle difficoltà nell'inserirsi nella società. Tuttavia, se insomma si legge il libro o si va proprio in giro per Torpignattara, abbiamo dei casi di donne che sono venute da sole, di donne imprenditrici, a Torpignattara ci sono diversi negozi e qui insomma per chi non c'è mai stato, non so se ci sta ascoltando qualcuno che non conosce la zona, non sono negozi gestiti solamente da uomini, ma abbiamo nei mini market delle donne che gestiscono delle attività, dei negozi di abbigliamento, quindi anche la componente femminile in qualche modo sta emergendo anche dai dati, c'è un aumento nei dati lavorativi, c'è un aumento di imprese individuali a nome femminile negli ultimi anni rilevanti all'interno della comunità, che però non è ancora forse quello che serve insomma per sbloccare del tutto la situazione. Io avrei concluso? Non so se sono stata troppo veloce o troppo... Grazie Sara, sei stata perfetta, sei stata perfetta, se tu avessi continuato mi sarei inserito per ricordarti di chiudere. Veramente grazie anche per la sintesi, per lo sforzo di sintesi, riuscire comunque a raccontare un percorso di ricerca così importante, ricco, in pochi minuti non è semplice. In questo nostro percorso lungo la storia del quartiere arriviamo quindi agli ultimi anni e con questo appunto introduco il prossimo relatore che è Fahim Bouyan, regista e attore, vincitore con il film Bangla del 2019 del premio Davide di Donatello. Fahim in qualche maniera rappresenta l'ultimo passaggio, il frutto maturo di questa lunga storia di immigrazione. Fahim, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare tutti gli altri ospiti perché comunque è stato super interessante vedere il percorso storico dell'evoluzione che può avere un quartiere territoriale. Volevo ringraziare pure le biblioteche di Roma, te, Michele e grazie per questa opportunità intanto. Beh, grazie a te per essere ospite di questa iniziativa, nonostante i tuoi impegni di lavoro, ora so che sei fuori per lavoro. Allora io volevo cominciare proprio con una tua visione sul quartiere, appunto abbiamo parlato della storia di questo quartiere, tu sei nato in questo quartiere, sei un abitante, un residente e hai iniziato a trasformarsi anche il quartiere nel corso della tua vita. Quali sono i cambiamenti, appunto, per iniziare un po' questo incontro, questa chiacchierata, com'è cambiato il quartiere negli anni, nei tuoi anni, quindi negli ultimi anni? Beh, sicuramente c'è stata più una riqualificazione, diciamo che magari mancavano determinati tipi di servizi, no? Anche attraverso, non so, il degrado, appunto, della spazzatura, piuttosto che, appunto, vedere il quartiere come è pericoloso, però effettivamente adesso stanno cambiando le cose, magari che, non so, nelle varie vie non c'era neanche la luce, adesso invece, come dire, si sta più tranquilli. Mi capita spesso che invece, cioè non so se perché io ci abito da interno, ma quando, per esempio, stavo all'università, molte persone fuori sede avevano quasi paura di andare a vivere lì a Torpignattara. E allora lì mi sono posto veramente una domanda, cioè se è veramente così, quindi poi, appunto, c'è stata l'idea di, appunto, raccontare Bangla e poi, cioè, diciamo che da parte mia non c'è mai stato un fine socio-politico, nel senso a me l'interesse era, appunto, raccontare una storia d'amore e poi rendere anche co-protagonista il quartiere, cioè nel senso, appunto, Roma è stata raccontata in diverse maniere e ci piaceva dare anche un altro volto di questo quartiere, soprattutto anche dopo quello che è successo, appunto, tra gli attentati di Badaclan, come dire, a livello mediatico il quartiere era stato subito visto male e invece noi volevamo dare, appunto, un altro punto di vista di come si sta rivolgendo anche e soprattutto attraverso la street art, quindi, per esempio, a me mi ha fatto strano vedere, appunto, anche che si facessero dei tour in cui, appunto, i turisti venivano a visitare il quartiere, quindi sicuramente è in totale evoluzione, nel senso, molte persone adesso comprano le case lì, tuttora magari c'è qualcuno che mi chiede, effettivamente, se ci sono delle case in vendita, perché, appunto, no, come dire, è molto collegata, si raggiunge il centro facilmente, comunque, diventa sicuramente un fulco per raggiungere i vari quartieri. Sì, il tuo film è stato, appunto, ricordo Bangla del 2019, probabilmente è stato anche un motore, no, di questa riqualificazione, è frutto e al tempo stesso anche motore, cioè ha dato un'immagine in tutti e tali, poi anche all'estero, sta girando molto anche all'estero, di questo quartiere. E su questo, appunto, lo sguardo del regista sul quartiere, che al tempo stesso è il tuo quartiere, prima Stalker, con l'incontro di Stalker, si è parlato di Pasolini, di Pasolini che visita con macchine costose, i baraccati, quasi, appunto, anche per tra respirazione. C'è tutta una storia del cinema italiano che rappresenta i quartieri romani, anche le immigrazioni, no, interne, straniere, che avvengono a Roma. Appunto, in quanto regista, il tuo sguardo come si è relazionato, appunto, anche con questa tradizione? No, no, quello è stato interessante, nel senso che, soprattutto, i film di Pasolini, no, anche attraverso la letteratura, con ragazzi di vita, cioè ci sono tutta una serie di cose che sicuramente ci hanno ispirati, cioè lui, appunto, raccontava il proletariato, il sottoproletariato, con Accattone, con Mamma Roma, ha raccontato diversi tematiche. E quindi, per me è stata sicuramente una grande fonte di ispirazione, capire cosa ci fosse prima, perché noi, alla fine, come dire, stiamo raccontando un presente, uno spaccato. E il fatto di avere, appunto, questo tipo di documentazione ci dà la possibilità di poter, come dire, tranne beneficio, cercare di mantenere, appunto, quello che è la storia. Da questo punto di vista, sicuramente, si basa molto, appunto, sull'osservazione e quindi di capire le persone. Quindi, cioè, l'unico modo per capire sia i pregi e difetti di un quartiere, di un territorio, appunto, attraverso il dialogo. Quindi, spesso mi è capitato, appunto, dopo le varie visioni del film, appunto, di, o di essere, appunto, o contestato, o vedere, appunto, e ricevere dei complimenti. Quindi, secondo me, è questo che, come dire, il regista fa, nel senso, cerca, appunto, di indagare su quello che potenzialmente può essere una storia. Cioè, quindi, appunto, farsi ispirare dal territorio e poi cercare, appunto, di portare un suo lato personale. Quindi, io questo ho cercato di fare, appunto, quindi, anche andando attraverso la storia, di capire, effettivamente, cosa stava succedendo. Tra l'altro, la storia è anche una storia di un incontro tra due ragazzi che sono espressione di due zone di Roma diverse, no? Quindi, tra te, che sei l'espressione di Torpignattara, no? Come dice all'inizio, quello che è diventato anche, forse, anche la frase simbolo del film, 50% Bangla, 50% italiano, 100% Torpigna. E, dall'altra parte, appunto, la protagonista femminile che, invece, viene da altri quartieri, da Roma Nord e quindi esprime anche un altro volto di Roma, anche da un punto di vista territoriale. Appunto, invece, il... Eh, dimmi, dimmi. No, 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 sicuramente noi abbiamo più con degli stereotipi, no? Che poi, magari, non è proprio così, nel senso, noi abbiamo cercato di puntare il sorridere sull'ironia. E, no, no, sicuramente sì, vedere, appunto, i due spaccati, no? Perché magari, eh, si può addirittura arrivare a un concetto di gentrificazione, perché, appunto, Roma, essendo, come dire, no? Molto densa, no? Cioè, non capita mai... Cioè, io, a volte, magari, alcuni quartieri non li conosco per niente, cioè, perché non si ha neanche, come dire, il tempo materiale di, di esplorare altri, altri posti. Però, sicuramente, eh, era più, appunto, giocare su, su questo lato. E a proposito di stereotipi, appunto, visto che hai introdotto il tema degli stereotipi, eh, rispetto alle seconde generazioni, di cui si parla tanto, si è parlato tanto nel dibattito politico per via della, eh, legge sulla cittadinanza, e questo fa anche capolino, diciamo, nel tuo film, eh, quando, appunto, c'è il, il padre della protagonista, che si, che si indigna, no? Per la situazione attuale della legislazione sulla cittadinanza italiana. Eh, appunto, da un punto di vista, poi, narrativo, come ti sei, eh, scontrato e incontrato con gli stereotipi sulle seconde generazioni. Beh, sì, no, eh, cioè, spesso a me, non ne ho mai risentito io, personalmente, però, andando, appunto, in giro per le varie città, ho capito che, effettivamente, il problema era, era molto più sentito, soprattutto nelle seconde generazioni, come un conflitto interno, eh, di una crisi di identità, no? Effettivamente, non sai se sei veramente o italiano o sei del tuo paese d'origine, quindi questo è stato il primo punto. Quindi abbiamo cercato un po' di, come dire, no? Sdrammatizzare sul, sul fatto che, appunto, o le seconde generazioni li prendono a 18 anni, ma soprattutto il problema c'è l'anno chi arriva o un anno a 5 o a 10 anni in Italia, non, e il processo burocratico è molto più complesso, no? Nel, appunto, ricevere la cittadinanza, nonostante, appunto, eh, come dire, no? Eh, paghi le tasse, insomma, sei, come dire, no? Un cittadino attivo, ecco, mi viene da dire. E, e poi, sì, per quanto riguarda, appunto, gli stereotipi, un altro stereotipo, insomma, che abbiamo, insomma, ci siamo anche, no? Detti, eh, precedentemente era, appunto, eh, il fatto che la, 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 una gran parte della comunità del Bangladesh adesso si stia spostando a Londra. E, da questo punto di vista, penso che sia... Mi sa che c'è un problema col collegamento. Eh, oddio. Scusa, se un attimo è saltato. E, no, spesso, cioè, secondo me è un atto di coraggio, nel senso che, appunto, vedo di nuovo l'immagine di Faime bloccata, purtroppo neanche ti sento. Allora, intanto ricordo, appunto, che abbiamo la possibilità di interagire con Faime, ma con tutti gli altri relatori, attraverso, eh, la modalità dei commenti su Facebook. Chi non ha, eh, Facebook e quindi non può lasciare commento, può scrivere, eh, direttamente, eh, la, la domanda, è una domanda, un, un, delle osservazioni alla, 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 alle mail, eh, nostre di noi organizzatori, eh, Stefano punto Gallo, chiocciola, eh, ismed punto cnr punto it, eh, o Michele punto Colucci, chiocciola, ismed punto cnr punto it. Eh, beh, intanto che, eh, cerchiamo di ri, eh, riattivare il collegamento con Faime, eh, appunto, credo che sdrammatizzazione, il termine che ha usato prima, eh, Faime Buiam sia un termine fondamentale, eh, nel, anche nella resa, eh, artistica del, del film, no? Sfuggire un po' dagli stereotipi, anche del dibattito sulla questione immigrazione, provare a mostrare un, come dire, un volto, eh, meno inchiodato su, sulle, sul, sul dibattito politico, e più, appunto, eh, che bifatizza maggiormente la vitalità, la capacità anche della, eh, della vita, della società, della, della dinamica sociale a sfuggire alle gabbe degli stereotipi e a proporre sempre comunque, eh, cose, eh, cose nuove, eh, configurazioni nuove. Allora, aspettiamo, eh, aspettando che, eh, Faime si, 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 si ricolleghi, se non ci sono interventi da parte, eh, dei relatori o domande da parte, da parte del pubblico, io intanto ricordo che, eh, il prossimo appuntamento con queste iniziative territoriali, no? Che, appunto, abbiamo voluto chiamare appuntamenti territoriali, anche se sono, in qualche maniera, eh, in una dimensione virtuale, eh, avverrà il prossimo venerdì, sì, alle dieci e mezzo, forse ricopriamo Faime, nel frattempo, appunto, do appuntamento, eh, mentre aspettiamo che torni il collegamento con Faime, eh, con venerdì prossimo, alle undici e mezzo, alle dieci e trenta, sempre, appunto, sui profili, le pagine Facebook di Biblioteche di Roma, stavolta, però, ci spostiamo a Corviale, con la Biblioteca Renato Nicolini, eh, per, appunto, l'iniziativa e, eh, tenterà di raccontare la zona, eh, la zona di Corviale. Eh, io non so se Faime, eh, a questo punto è riuscito a superare i problemi tecnici? Ecco, ti Faime, mi senti? Non so che è successo a un certo punto, ti sento, no? Scusate che mi si è staccato poi, ma non so che è successo, però ci dovrò essere adesso. Dai, proviamo a vedere allora se riusciamo a, anche a, a chiudere con qualche ultimo minuto. Stavi parlando della, del rapporto tra, appunto, la, eh, i progetti migratori, diciamo, dei bengalesi rispetto a, anche all'Inghilterra, no? È stata evocata da, da Sara Rossetti, questa, eh, questo legame con, eh, con l'Inghilterra, rimane sempre un po', eh, spesso in mente, in testa ai progetti migratori, ma anche nel film, eh, ne parli, anzi, è uno dei momenti, secondo me, eh, più interessanti, quando nel, nel pranzo con la, la, la fidanzata, con la, la protagonista femminile, eh, accenni a questa cosa, dici, lo chiamiamo il corridoio italiano, cioè il fatto di stare in Italia qualche anno con l'idea poi di andare a Londra e a quel punto il padre della, della ragazza che fino a quel momento che aveva espresso indignazione per la, la legge sulla cittadinanza, a quel punto si arrabbia con te e dice, ah, ora siamo diventati un corridoio, no? Mi sembra anche lì, come dire, la, la cifra stilistica un po' che hai voluto dare al lavoro, sempre questa, eh, ironia, non dare mai niente per scontato, provare sempre a smontare i luoghi comuni, scusami, con questo ti lascio la parola. No, 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 eh, no, sicuramente sì, era più cercare appunto di, eh, di, di farlo capire a tutti quanti, eh, di quello che, eh, cioè tutto quello che stava succedendo attraverso veramente pochissime battute, quindi, eh, no, spesso è vero, capita che magari appena, appunto, eh, varie famiglie riescono a prendere la cittadinanza, però si parla di un processo che dura, insomma, dai 10 ai 12, 15 anni, eh, a un certo punto drasticamente decidono, insomma, o per motivi, appunto, per dare un futuro migliore ai figli, o per quanto riguarda il benefit, o perché, appunto, insomma, per, per la lingua, no, per l'inglese, eh, può dare, come dire, molti più sbocchi lavorativi decidono, appunto, di, di partire per, per un futuro migliore, quindi è una migrazione che, che non finisce mai, quindi, appunto, diciamo che era un atto di coraggio, però, sì, e in questo c'è anche lì un'analogia, allo stesso tempo la differenza anche con, con l'esperienza delle emigrazioni dall'Italia, eh, perché, appunto, questa cosa di, dell'inglese, delle migliori opportunità all'estero, dell'Inghilterra come luogo di destinazione, di emigrazioni dei giovani, è una cosa che, appunto, non è assolutamente un'esclusiva di chi ha origini bangladesi, ma è un, è una caratteristica studiata, anche sempre più studiata della società italiana nel suo complesso, eh, quindi, anche lì è un intreccio interessante, è un intreccio interessante, appunto, eh, però è interessante anche vedere, anche questa, eh, forte territorializzazione, nonostante ci siano delle, eh, delle mete, a volte sognate, a volte realizzate, a volte realizzate per qualche anno, perché poi si fa il ritorno, è il caso, ad esempio, che rappresenti nel film del tuo amico, eh, almeno dell'amico, il tuo del film, che va a Londra e poi però torna, eh, quindi, anche lì, è un, rimane un punto di riferimento, il quartiere fondamentale nelle vite anche di chi esce, di chi va via. No, no, sicuramente sì, perché magari, eh, in Italia c'è sicuramente un po' lì, una qualità di vita migliore rispetto sicuramente ad altri paesi, quindi, eh, rimane un po' quella che è, che è la nostalgia, magari ci sono, appunto, delle famiglie che sono, eh, rientrate, appunto, da Londra, perché, appunto, eh, non trovandosi bene, hanno deciso, appunto, di, di rientrare, perché ci sono stati pure alcuni casi, e, eh, però sì, sì, sicuramente, eh, rimane sempre quel concetto di nostalgia che, come dire, no, va, eh, fa sì che comunque qualcosa abbia lasciato, come dire, sia il concetto di immigrazione, ma anche, appunto, l'Italia stessa per, eh, per altre comunità, ecco. Benissimo, allora abbiamo un commento di Domenico di Pietrantonio, complimenti per questo interessantissimo excursus, insegno italiano in una scuola per migranti nel quartiere di Montagnola, i nostri apprendenti sono per la quasi autorità appartenente alla comunità bengladese, mi sono ritrovata completamente nelle vostre parole, nei vostri racconti, grazie Valeria Campanelli. Bene, allora, eh, se non, non abbiamo altre richieste di intervento, da parte, eh, di relatori, se, appunto, eh, non, eh, non, non giungono nel frattempo altre, altre sollecitazioni da, dai commenti, eh, io ringrazio davvero tutti i relatori che ci hanno accompagnato in questa mattinata, partendo, eh, dalla, dall'unità d'Italia, dalla, o meglio appunto dal 1871 all'inizio della storia di, di Roma capitale, fino ad oggi, eh, fino ad oggi in un, eh, excursus che appunto prende come, prende il pigneto e il quartiere, pigneto e gli intorni, l'abbiamo chiamato, come punto di riferimento per poter riflettere su temi fondamentali, eh, la trasformazione urbana, le dinamiche sociali, le migrazioni, eh, i, eh, i rapporti sociali nei quartieri. Grazie, grazie davvero a tutti e vi ricordo, appunto, l'appuntamento di venerdì, eh, prossimo, venerdì 11 dicembre alle 10.30, sempre su, eh, i streaming, sui canali, eh, di biblioteche di Roma, eh, l'incontro dal titolo 150 anni di immigrazione a Roma, Corviale, eh, e dintorni. Eh, saremo virtualmente nella biblioteca Renato Nicolini per parlare, eh, di, eh, di Corviale e Magliana, eh, e interverranno Antonello Anappo, giornalista e storico del territorio portuense, Aldo Feroce, fotografo, Giulia Zitelli Conti, storica e autrice del volume Magliana Nuova, un pantiere politico nella periferia romana e Ugo Sestieri, ufficine culturali in senso inverso, scusate, e avremo anche, eh, varie testimonianze poi, eh, che, eh, arricchiranno e che daranno appunto anche delle, eh, punti di vista, eh, differenti. Modererà Michele Colucci del CNR Ismed. Bene, io allora davvero a questo punto, eh, vi, vi saluto, vi ringrazio. Il, eh, video del, di questo incontro poi sarà disponibile, eh, su YouTube, sulla, sul canale, eh, YouTube del CNR Ismed, eh, dove potete già vedere, eh, per chi fosse interessato, eh, i video del, eh, convegno del 6 novembre scorso, che è il convegno di apertura di questo percorso che ci porterà durante quest'anno e durante il prossimo anno a, eh, perlustrare, a indagare i, eh, vari, vari quartieri, vari territori di, della città di Roma attraverso le sue biblioteche. Quindi, appunto, sul canale YouTube di CNR Ismed potete già vedere i video, eh, degli, degli interventi del convegno del 6 novembre e nei prossimi giorni anche, eh, il video di questa mattinata. E insieme nel, vi rimando anche al sito, eh, del, del, del progetto, del progetto Roma, eh, del sito Roma 150emigrazioni.it in cui potrete scaricare, eh, i materiali, le slide, le immagini, eh, proposte il 6 novembre e nei prossimi giorni anche quelle proposte oggi dai relatori. Relatori che ancora una volta ringrazio e, appunto, ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Grazie a tutti, una buona giornata. Grazie a tutti.